Ciao a tutti ragazzi e ragazze, volevo farvi vedere oggi la mia collezione di slime, cioè non ne ho molti molti molti, ne ho fatti 9 e adesso volevo farveli vedere. Poi volevo farvi vedere anche un'altra cosa che ho comprato in edicola, che è un libro di Yolanda Switz con tutte le cose che ci sono scritte per fare lo slime. Allora ora comincerò a farvi vedere gli slime. Allora cominciamo da questo, io ne ho messi due o tre per scatola, qua ce ne sono due, qua c'è quello rosso. Eh, un po' si spezza, però è bello e morbido, facile da fare, con la trasparente colorante rosso e liquido perlentine. Poi, quello trasparente, che si fa con la colla trasparente e liquido perlentine, sto facendo un casino perché mi si è spessato e allora non è andato perché. Passiamo agli altri. Se non vi si addensa lo slime, soltanto con liquido perlentine, mischiate il liquido perlentine con un pochettino di bicarbonato, senza mettere acqua né niente. Passiamo a questa. Mi si sono uniti gli slime, scusate un attimo. Ok, perché ne ho uno giallo e uno con i glitter. Allora, questo ha i glitter fucsia, se li vedete. Sì. Vabbè, non si vedono molto bene. I glitter fucsia, qua guardate. I glitter lilla e i glitter bianchi. Quindi, se voi comprate queste cose, non è che poi alla mamma glielo dovete dire. Ok. Allora. Poi, c'è quello giallo, che è bellissimo questo. Questo secondo me è il più bello, perché è quello che si allunga di più senza spezzarsi. E' bellissimo. Bello, veramente, sì. Questo è davvero bello. E il bello è che non lasciano neanche i brillantini. Quindi, continuiamo con la nostra collezione. Se avete sentito il rumore, il mio cane è che piange. Allora. Poi, c'è quest'altro. Che ne ho messi tre e si sono uniti. Mamma mia. Questo è un casino. Non avevo altri contenuti. Non ho messi tutti insieme. Vabbè, va bene. Allora. Stacchiamoli. Vabbè, l'ho presa. Ok. Questo, che ho provato a farlo nero, però non è venuto grigio. Scuro, scuro. Che figa. E poi... Mi spezza. Mi si spezza. Guardate. Ma... Mi volete dire, giù nei commenti, come si fa a fare uno slime che si allunga e non si spetta mai? Allora, se lo sapete, scrivetelo giù nei commenti. E comunque... Benissimo. Ok. Devo cambiare le ciotole. Penso proprio di sì. Questo è grigio. Cioè, è più sull'azzurro. Così. Però, io lo vedo qui.